Normalmente a livello del grosso pubblico, a torto o a ragione, la credibilità dei dati e delle operazioni effettuate non sono sicuramente molto elevate. Per quanto ci riguarda rimane una grossissima perplessità dovuta al fatto che alcuni parametri sono stati scelti in maniera molto arbitraria per quanto riguarda l'AIA. Parliamo dei 70 microgrammi di San Lorenzo in Selva, tanto per citarne uno e che soprattutto alla fine il riassunto è che questi dati sono in presenza di una riduzione attuale della produttività. E infine, a torto a collo, è stato ammesso che anche qualora i parametri rientrassero ampiamente nei termini di legge, questo non vuol dire che assolutamente ci sia vivibilità nel rione e nei rioni limitrofi. Il direttore Marchesi ha riconosciuto l'importanza del ruolo dei cittadini nel segnalare fuoriuscite di nubi, la rumorosità eccetera? Noi continuiamo assolutamente a segnalare, c'è il blog Basta Ferriera che è un grossissimo indicatore delle performance dello stabilimento, basta guardare anche la nuvola di ieri, impressionante. Noi continueremo, continueremo come associazione No Smog sicuramente, continueremo col comitato 5 dicembre con Fare Ambiente e credo che la mobilitazione della cittadinanza a visti i risultati sarà ancora più forte.